Sabrina Ferilli è sicuramente una delle attrici italiane più belle. La sua carriera è iniziata negli anni Ottanta in piccoli ruoli, mentre il suo primo film davvero importante, e che ha cominciato a darle un po' di fama, è stato Americano Rosso di Alessandro Dalatri. Si è sempre fatta notare per il suo fisico dalle classiche forme mediterranee, ma non ha mai lavorato seriamente come modella. Oggi ha 57 anni, e ovviamente nel tempo il suo corpo e il suo viso sono cambiati. Ecco com'era da giovane. Sabrina Ferilli piace molto al pubblico italiano per la sua solarità, e il carattere sempre allegro. Inoltre, il suo talento e la sua professionalità sono in dubbie. Durante la lunga carriera ha dimostrato di sapersi calare perfettamente i ruoli leggeri e drammatici. Una sua indimenticabile interpretazione è stata in Dalida, dove era la protagonista. Si può notare bene che l'interprete di Ramona nella grande bellezza di Paolo Sorrentino, premio Oscar come miglior film straniero del 2013, deve aver corretto alcuni piccoli dettagli, come il naso e gli zigomi. Nonostante questo, bisogna ammettere che era una splendida donna anche prima, e che questi ritocchi non la rendono sicuramente una persona meno naturale.